Ai sacerdoti che nel mondo danno la loro vita per i fedeli, come lo hanno fatto anche nella pandemia e sono più di cento in Italia, ai martiri e ai testimoni della carità verso i più poveri, come Don Roberto Malgesini e ai sacerdoti che si trovano ad essere anche in crisi, dedichiamo la prossima puntata di Sulla Via di Damasco. Don Roberto il lunedì prima di essere ucciso ha celebrato la sua ultima eucarestia. Il ricordo qui di Don Roberto è molto forte, molto vivo nel cuore delle persone che incontrava, delle persone che trovava in ospedale, medici, infermieri, ammalati, nelle carceri, perché penso che tante persone si troveranno veramente orfane. Vi aspetto domenica prossima su Rai 2, sulla Via di Damasco.